Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina sindacale, oggi in apertura del telegiornale, ci occupiamo dello show però che oggi ha interessato i dipendenti Eni, è la terza volta in poco più di due mesi. Una delegazione gelese è a Roma, assieme ai segretari provinciali del settore chimico di Filctem, Femca e Wiltec, no alla prospettiva di uno forte ridimensionamento del gruppo Eni in Italia, sit-in anche dinanzi ai tornelli dello stabilimento gelese. Si fermano i dipendenti Eni, è la terza volta in poco più di due mesi, oggi 8 ore di sciopero che interessano uffici ed impianti produttivi in Italia. Una delegazione gelese è a Roma, assieme ai segretari provinciali del settore chimico di Filctem, Femca e Wiltec, no alla prospettiva di uno forte ridimensionamento del gruppo Eni in Italia e sì ad una politica industriale del gruppo al fine di rilanciare il ruolo di Saipem nel mercato energetico e infrastrutturale. I sindacati si dicono contrari alla strategia di Eni di consolidare ed estendere la propria attività fuori dall'Italia e ridimensionare il perimetro delle attività domestiche. E oggi sit-in anche dinanzi ai tornelli dello stabilimento gelese. Erano in pochi, a dire il vero, solo una ristretta rappresentanza. Il nostro presidio fa parte di una manifestazione che è nazionale, quindi significa anche negli altri siti hanno manifestato. E questo è contro la politica dello Stato, è contro Eni che non vuole investire e a favore del Sud che è sempre dimenticato dalla politica e in questo caso da Eni. Siamo stanchi di stare sempre per strada e quindi diciamo piano piano non siamo rassegnati, lotteremo fino alla fine, però diciamo che siamo stanchi di stare per il nostro lavoro in mezzo alla strada a chiedere i nostri diritti per la salute, per il rispetto del lavoro e per i nostri cittadini perché così Gela è destinata a sparire. Aspettiamo questa risposta da Roma appunto per sapere se Leni cosa decide di fare, se investire a Gela oppure diciamo abbandonare il territorio a se stesso. Voi soltanto adesso in attesa di buone nuove dalla capitale. Sì, siamo in attesa appunto, i nostri colleghi sono andati a manifestare oggi a Roma per avere delle notizie più certe su quello che vuole fare qua a Gela, che intenzione ha di fare a Gela. Intanto ieri incontro al Ministero dell'Ambiente e Via Libera alle bonifiche relative ai siti di Versalis, mentre tutti gli altri procedimenti che riguardano suoli e falde dovranno essere chiusi in 60 giorni. Per le bonifiche in aree pubbliche il Governo nazionale ha inoltre confermato 20 milioni di euro di trasferimenti alla regione siciliana, gran parte dei quali ancora disponibili. Via Libera alle bonifiche relative ai siti di Versalis, mentre tutti gli altri procedimenti che riguardano suoli e falde dovranno essere chiusi in 60 giorni e i successivi decreti del Ministero dell'Ambiente saranno emanati attuando le procedure d'urgenza che impongono tempi minimi per la firma dei decreti ministeriali. Per le bonifiche in aree pubbliche il Governo nazionale ha inoltre confermato 20 milioni di euro di trasferimenti alla regione siciliana, gran parte dei quali ancora disponibili. E' quanto emerso ieri al termine del vertice che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico. La presenza di tutti gli attori istituzionali alla conferenza di servizi a Roma, ha detto la sindaco di Gela, Domenico Messinese, rappresenta la volontà politica di accelerare gli ITER confermando il più alto livello di priorità data alle bonifiche nel territorio di Gela dopo anni di manchevolezze. I quasi 15 milioni utilizzabili, ha spiegato il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano, saranno impiegati ad esempio per la discarica Cipolla e Marabusca. L'amministrazione comunale metterà a giorni una ordinanza di interdizione totale dell'area che verrà delimitata con strutture amovibili impiegando risorse regionali. Tra le questioni sollevate dalla Giunta, il Ministero dell'Ambiente esituirà a breve un tavolo tecnico con Isora ed il Ministero delle Infrastrutture per avviare le procedure per la bonifica e la rimozione dell'arelitto della New Rose arenata sul molo di Ponente del Porto Rifugio che a breve sarà sottoposto agli interventi di dragaggio e rinforzo a tutela dell'ambiente marino e a garanzia dei prossimi lavori di ripristino funzionale della struttura portuale. Per le aree che non ricadono nel sito di interesse nazionale e su cui l'amministrazione comunale la scorsa settimana ha chiesto la riperimetrazione, la Regione ha annunciato a giorni la conclusione di alcuni dei procedimenti autorizzativi con la conseguenza virtuosa che le bonifiche potrebbero avvenire prima della ridefinizione del SIN. In caso contrario comunque il Ministero si è impegnato a monitorare di concerto con la Regione le procedure autorizzative per garantirne la continuità amministrativa anche con il passaggio ad Ariesin e dunque con il passaggio alla competenza ministeriale. Finora per l'Ariesin di Gela, ribadisce Siciliano, non sono stati mai sottoscritti accordi di programma quadro di alcun genere tra lo Stato e la Regione per utilizzare i fondi comunitari. Auspichiamo che questo si rimedirà con un provvedimento del relativo Dipartimento regionale. Emerge dunque come la cooperazione tra Regione e Giunta Comunale, spoglia delle logiche partitiche, abbia fatto cambiare radicalmente l'attenzione da parte del Governo centrale sul tema della salute ambientale a Gela. E il movimento spontaneo dei lavoratori in vista dell'importante incontro del 24 febbraio prossimo che si darà al Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'avvertenza Gela lancia un appello. I lavoratori dell'indotto scrivono al Presidente della Regione, Rosario Crocetta. Il 24 febbraio andiamo tutti a Roma e l'appello lanciato dal movimento spontaneo dei lavoratori in vista dell'importante incontro che si darà al Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'avvertenza Gela. L'appello è stato rivolto alla Sindaco, all'amministrazione, a tutto il Consiglio Comunale, ai segretari confederali di categoria e agli imprenditori gelesi per cercare di organizzare dei pullman al fine di raggiungere la capitale. Il 24 febbraio prossimo è una data importante. Sul tavolo del confronto, infatti, c'è il futuro industriale di Gela. Si parlerà della riconversione green e della raffineria. Dovrà essere messo nero su bianco su quello che sarà il futuro di un intero territorio. Sarà discusso, inoltre, il protocollo d'intesa siglato il 6 novembre del 2014. Chi ha preso degli impegni con i lavoratori, sostiene il movimento spontaneo, deve portarlo a compimento. Il movimento spontaneo dei lavoratori, inoltre, sottolinea il disinteresse riscontrato ad oggi da parte di tutto il Consiglio Comunale, che doveva indire una riunione con i sindacati, con gli imprenditori, con i commercianti per organizzare la partenza per Roma. Per lo stesso movimento spontaneo ci sarebbe in atto un boicottaggio da parte di qualcuno per interessi strettamente personali. Intanto, i lavoratori dell'indotto hanno scritto una lettera al presidente della regione siciliana, il gelese Rosario Crocetta, in cui lo esortano a non dimenticare il dramma che stanno vivendo. Ci sono lavoratori, scrivono che da diversi mesi sono rimasti senza percepire alcun reddito. Come manteniamo le nostre famiglie? Pagare tasse, mutui, beni di prima necessità. Ognuno di noi rischia di perdere ciò che ha costruito con tanti sacrifici. Eppure, sottolineano, non si doveva perdere alcun posto di lavoro. Vogliamo riprenderci la nostra dignità che qualcuno ci ha tolto. Vogliamo essere uomini liberi. Non vogliamo continuano politiche al sostegno della povertà, cassa integrazione o mobilità. Abbiamo bisogno di risposte immediate, non a tavoli istituzionali che vanno avanti da mesi. Presidente Crocetta, ribadiscono ancora, è facile dire che non ha il potere di cambiare le cose. Noi lavoratori pensiamo e siamo convinti che lei il potere ce l'abbia, come pure una grande responsabilità politica, quella di rimettere in piedi questo paese che continua ad essere vittima delle contraposizioni politiche che vanno a discapito dei cittadini. Vogliamo solo fatti concreti. La vagina della cronaca nera a rogo la scorsa notte, poco dopo l'una, in via Cecoslovacchia nel quartiere Caposoprano a Gela. Il fuoco ha colpito una Renault Megane Station Wagon ed una Fiat Panda, parcheggiate uno accanto all'altra, a pochi metri dall'incrocio, con via Manzoni. Le due autovetture appartengono a padre e figlio. I danni sono rilevanti. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, assieme agli altri primi cittadini della fascia trasformata, ha preso parte al vertice convocato per gli amministratori comunali di Gela, Aniscemi, Pachino e Vittoria, al Ministero dell'Agricoltura, alla presenza del titolare del di Castero Maurizio Martina, del sottosegretario Giuseppe Castiglione, dell'assessore regionale Antonello Cracolici e dell'europarlamentare Michela Giuffrida. I sindaci hanno chiesto clausole di salvaguardia per ridurre l'impatto dell'accordo euro-mediterraneo che potenzia l'import dai paesi riveraschi dall'Africa. I nostri imprenditori, ha spiegato il sindaco di Gela, non temono tanto la concorrenza quanto la contraddizione di norme europee che non valgono nei paesi dai quali importiamo gli stessi prodotti che coltiviamo con costi del lavoro più elevati. Sono necessari più controlli per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori. L'Istituto Alberghiero di Gela, attraverso insegnamenti teorici e pratici, si propone di realizzare la formazione di giovani da inserire immediatamente nel mondo del lavoro attraverso un diploma statale. Il percorso di studi che la scuola propone è costituito da un biennio di area comune, di indirizzo comune e successivamente alla fine del secondo anno i giovani hanno la possibilità di scegliere un indirizzo, uno dei tre indirizzi da noi proposti, l'indirizzo di enogastronomia, di sale e vendita e accoglienza turistica. A conclusione del terzo anno viene rilasciata la qualifica, una qualifica regionale poiché l'Istituto è accreditato dalla Regione ovviamente per il rilascio della qualifica e poi si prosegue con il quarto e il quinto anno sempre seguendo l'indirizzo scelto al terzo anno. Si conclude con il diploma statale e quindi la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Una importanza notevole è data anche all'alternanza scuola-lavoro perché la scuola è obbligatoria intanto nel percorso di formazione per i nostri ragazzi e organizza attività di stage presso strutture alberghiere nel settore d'alberghi e ristorazione a livello nazionale ma anche internazionale. I progetti che noi realizziamo sono molteplici, tra questi ricordiamo il progetto Erasmus, i progetti sull'educazione alla salute, anche progetti legati al territorio di sicurezza, di volontariato e così via. L'alberghiero di Gela già dall'anno scorso ha partecipato al progetto Erasmus insieme ad altre scuole, quindi in partenariato. Sono partite delle ragazze sia del commerciale che dell'alberghiero e sono andate a Derri per la lingua inglese e a Bordeaux per il francese. Si tratta di un progetto di alternanza scuola-lavoro e quindi i ragazzi hanno frequentato una settimana di corso linguistico, sia di francese che di inglese e poi le restanti quattro settimane hanno lavorato in delle aziende, in delle strutture che prevedevano il loro indirizzo professionale, e per esempio l'accoglienza, quindi come guide turistiche, in ristoranti e così via. Anche quest'anno, come gli anni passati, ci accingiamo ad arrivare alla stagione estiva con l'alternanza scuola-lavoro, nonché il fiore all'occhiello della nostra scuola. Sono appena ritornato da Milano proprio in questi giorni perché ho chiuso due grosse convenzioni con due grossi tour operator e grazie a queste convenzioni noi oggi possiamo contare circa 80 alunni che lavorano in grossi prestigiosi tour operator a livello mondiale. Quindi continuiamo la nostra esperienza cercando di offrire opportunità di lavoro ai nostri alunni che poi diciamo che è il nostro obiettivo finale. La scuola secondaria è molto importante per il futuro di vita. Oggi stiamo introducendo la scuola di hotel e catering vocationali e vorrei dire alcune parole in inglese per farvi capire l'importanza dei linguaggi in nostra scuola. È una scuola molto interessante basata su elementi scientifici culturali ma è anche fondata su una base vocationali according to the European Union Indication. Le subiettive sono hotel management, kitchen management, bar e restaurant management. per i linguaggi stiamo studiando inglese e francese. Oggi la scuola superiore è una cosa molto importante per la tua vita e per il futuro. Nostro presentiamo la nostra scuola che si dedica soprattutto all'hostaleria e restaurazione. E anche ci diamo molta importanza ai studi di lingui extranjero come inglese e francese. La fondamentale importanza è il progetto di formazione alterna, scuola-trabajo, dove i giovani possono experimentare con le nostre mani le realità del lavoro in nostra area. Nostro plan di studio si basa in una formazione di 5 anni. Il vieno è comune a tutte le direzioni. e poi hanno bisogno di preferire il settore che preferisce entrare. Direzione di hotel, gestione di bar e restaurante e così. Il tuo futuro è l'Istituto Alberghiero. E attestiamo! Ancora emergenza idrica a Gela. Rubinetti a secco fino a domani mattina alle 6 a Caposoprano, Scavone, Marchitello e Manfria a Comunicarlo e Caltacqua, i cui tecnici sono già al lavoro da ieri sera per ripristinare la normale erogazione idrica. Stato di agitazione dei lavoratori impiegati nella raccolta dei rifiuti a Gela alle dipendenze della Tecra. Nonostante le interlocuzioni intercorse con il Comune e con la stessa ditta, ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto né gli emolumenti relativi al mese di gennaio scorso né hanno avuto assicurazioni sul pagamento. Tra qualche giorno, se la situazione non sarà risolta, sarà proclamato lo sciopero. Lo comunica il segretario generale, funzione pubblica della CGL di Caltanissetta, Giovanna Caruso, che ha investito del problema il prefetto, la questura e il sindaco di Gela. Stasera torna, come ogni venerdì, agora il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico ideato e condotto da Franco Gallo, punterà come sempre riflettori sui temi di attualità che riguardano Gela ed i Gelesi, con una novità sostanziale stavolta, e cioè che a sviscerare gli argomenti sarà l'altra metà del cielo della politica locale. Donne impegnate in politica che daranno la loro chiave di lettura dei problemi che attanagliano Gela e in quale modo intendono contribuire per provare a risolverli. Appuntamento a questa sera, dunque, a partire dalle 21, con un'altra interessante puntata di Agora. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale, domani alle 17.30, in Corso Vittorio Emanuele 381 a Gela, sarà inaugurata la sezione di Fratelli d'Italia, alleanza nazionale, che sarà intitolata a Giorgio Almirante. Che sia da computer o da dispositivi mobili, la nostra vita è sempre più connessa, spesso a discapito della privacy. Prepotenze tra pari, diffusione capillare in rete di frasi, insulti che offendono la sensibilità di giovani ragazze, per lo più o ragazzi omosessuali. E il cyberbullismo, un fenomeno che, in maniera quasi del tutto incontrollata, ogni anno colpisce numerosi ragazzi che, il più delle volte, per paura o vergogna, tendono a nascondere o sottovalutare l'accaduto. Si è parlato di questo durante l'incontro al Palatenda dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Galileo Galilei, organizzato dalla Polizia di Stato, assieme al dirigente scolastico Loredana Schillaci e al magistrato del Tribunale per i minorenni, Gabriella Tomai. Il primo dei sei appuntamenti con gli studenti del Viennio delle Scuole Superiori, un'iniziativa, ha spiegato l'Ispettore Superiore Salvatore Falzone durante l'incontro che ha visto la partecipazione di 150 docenti dell'Istituto e numerosi studenti accompagnati dai loro genitori per sensibilizzare questi ultimi ad un uso consapevole per la gestione dei casi di prepotenze online nel sistema scolastico. Oggi io parlerò, andando coinvolgendo docenti e genitori perché sono le agenzie primarie dell'educazione. Ovviamente il convegno così lo chiamiamo cyberbullismo, ma non è solo cyberbullismo. Parliamo di sexting, di grooming, pericoli della rete in generale. Vogliamo pure, nel dare autoconsapevolezza ai ragazzi nell'uso dell'ICT, vogliamo pure sviluppare un percorso, un percorso critico verso i social, verso tutto ciò che è il mondo del web. Per fare questo ci serve coinvolgere anche i docenti perché questo percorso ovviamente non può concludersi in un'ora, in due ore di incontro, ma deve proseguire un lasso di tempo più ampio. Questo fenomeno è una patologia della comunicazione fra i ragazzi, perché il bullismo in fondo non è altro che un travisamento dei meccanismi funzionali di comunicazione, quindi una comunicazione socializzante diventa una comunicazione antisociale perché crea queste figure di vittima e di carnetice. Il problema del cyberbullismo è relativo semplicemente al fatto che la modalità privilegiata di comunicazione dei ragazzi, dei giovani oggi, è una modalità molto spesso indiretta perché è proprio mediata dai supporti tecnologici, quindi da parte dei genitori, degli insegnanti e gli educatori bisogna entrare in questo mondo anche della rete per aiutare anche i ragazzi a muoversi con sicurezza, con serenità, così come anni fa si muovevano nelle piazze, calciando un pallone. Oggi devono anche sapersi muovere nella rete con serenità. L'attrice romana Claudia Coll racconterà l'incontro con la misericordia di Dio che ha cambiato radicalmente la sua esistenza. La testimonianza sarà resa domenica 21 febbraio prossimo al termine della celebrazione eucaristica delle 18.30 preseduta da donna Lino di Dio nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore a Gela. nell'itinerario mensile che il vicariato gelese, assieme al Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia, ha preparato sulle opere di misericordia. La delegazione AIRC di Gela, nell'ambito del programma di educazione alla salute e prevenzione attraverso l'informazione, ha organizzato due incontri per domani. Il primo è previsto per le 8.45, si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Industriale Morselli diretto da Ina Ciotta ed è rivolto agli studenti. Il secondo incontro, previsto per le 10.45, si svolgerà presso la casa circondariale di Gela ed è rivolto ai detenuti. Relazionerà Placido Dagati, volontario AIRC, medico di informazione e spesialistica in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Catania. Ne dà notizia la delegata AIRC di Gela. Grazie a Condello Città. Anche quest'anno l'AIRC promuove l'uovo della ricerca per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica. L'iniziativa, ripetuta da più di 20 anni, viene anche promossa e sostenuta dal direttore generale alla pubblica istruzione. Si possono prenotare le uova presso le scuole che hanno aderito alla campagna oppure ai volontari della delegazione locale. Tipologia delle uova disponibili, uovo da 100 grammi per un contributo di 3 euro, uovo da 500 grammi, latte o fondente per una quota associativa di 15 euro e per la quale sarà emessa a relativa ricevuta. Sono disponibili anche uova giganti di 2, 2,5 kg e 3,5 kg da sorteggiare. Sono aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana 2016, organizzato dal Comitato di Gela aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Età minima 14 anni. Il corso si compone di 7 moduli a carattere teorico-pratico per una durata complessiva di 18 ore, durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso BLS, sulla diffusione del diritto internazionale umanitario nel quale è racchiusa la storia della Croce Rossa e sulla protezione civile. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo per informazioni 328 2477 645. Continuano gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese domenica 21 febbraio prossimo alle 19. Al Palazzo Pignatelli concerto lirico del trio Angela Curiale e soprano. Fabrizio Capizzi al violino e Giovanni Raddino al pianoforte. L'iniziativa porta alla firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Dal 25 febbraio al 17 marzo prossimi si terrà a Gela presso i locali della Chisetta San Biagio e presso la Pinacoteca al Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldia dal titolo La sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela. Il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico e affronterà temi concreti per la gestione, progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di una agricoltura sostenibile. Interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania ed esperti del settore. Proseguono le iniziative della Fidas Adas di Gela domani alle 20 e 15 presso la sede del Movimento Giovanile San Francesco in Piazza Padre Pio si terrà l'incontro con i formatori della comunità educante, i giovani universitari del gruppo contemplativa, la dirigenza e la squadra femminile dell'associazione sportiva dilettantistica San Francesco Calcio si tratta del primo di una serie di incontri medico-emozionali per illustrare con l'ausilio di slide e materiale vario cosa è la donazione del sangue e qual è il significato profondo di un gesto così altruistico. L'incontro sarà curato da Simona Averna responsabile progetti ed eventi della Fidas Adas di Gela e oltre volontari dell'associazione vedrà la partecipazione del presidente Enzo Emanuello del responsabile dell'unità di raccolta Antonio Moscato e di Gaetano Casserà medico prelevatore della stessa struttura sanitaria. La pagina dello spettacolo sono due i film in programmazione al Cineteatro Antitoto di Machitella Gela alle 17.30 sarà proiettato Franny con Richard Gere alle 19.30 e 21.30 invece Gioi i prossimi 24 e 25 febbraio sempre all'antitoto sarà portato in scena servizio in camera di Emanuele Giammusso l'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30 ci sono due numeri telefonici per informazioni 0933-822-2707 o 338-7143-293 sabato 27 alle 21.15 e domenica 28 febbraio alle 17.15 invece al Teatro Comunale Eschilo Flavio Brezza-Ventre Guia-Ielo ed Agostino Zumbo porteranno in scena la bismetica domata per informazioni in questo caso altri due numeri telefonici 0933-911-892 e 345-5880 580 con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti